allora bentornati nel canale ciao a tutti ah che callaccia sta andando allora una cosa che volevo dire non me la ricordo già mi sono scordata allora cominciamo subito il video oggi è incentrato e forse registrerò un paio di video ma vediamo sicuramente sì e oggi facciamo un video sul su un profumo credo lo potrei inserire tranquillamente tra i profumi giotto lo potrei tranquillamente inserire tra i profumi più sensazionali che abbia mai sentito eppure è una fragranza che non mi sarei mai aspettato dalla quale non mi sarei mai aspettato di diciamo di ricevere un impatto così forte devo essere onesto adesso vi spiego anche perché allora voi se non sapete ve lo dico io a me non piacciono enormemente i fruttati anzi proprio non mi piaccio a me non anzi a proposito giotto una bella pisciata allora ci tengo a dire anche questa cosa perché poi magari io educatamente lo dico perché a me non è che mi interessa allora siccome che il mio canale è sostanzialmente un canale molto molto easy e molto aperto molto libero e siccome questa cosa volevo precisare perché poi a volte magari succede che mi ritrovo dei commenti in cui non è la prima volta spesso me succede non so se è sempre la stessa persona comunque spesso mi succede è migliorare la tradizione siccome che sono molto fiero delle mie origini anche linguistiche e sostanzialmente sono un ragazzo che studia anche mediazione linguistica all'università cioè nel senso lavoro ma comunque studio anche mediazione linguistica e quindi ho dato proprio anche un esame di geolinguistica e volevo aggiornare le persone che non fossero a conoscenza del fatto che esiste anche una disciplina accademica che si chiama proprio geolinguistica e dialettologia che il mio dialetto è patrimonio culturale italiano siccome ci tengo io a preservarlo nel corso del non so che cosa siccome che ci tengo lo voglio fare liberamente anche nel mio canale e lo dico in maniera molto professionale e detto in maniera più volgare potrei dire che sto a far così non perché ci tengo un dick perché la bandana me la sono stata detta un pochetto siccome che lo dico in maniera professionale per lì per dirlo in maniera più libera più spensierata chi non mi vuole sentire parlare in dialetto può andare tranquillamente in altri canali che pensavate che stavo per dire può andare tranquillamente in altri canali dove esistono sicuramente diciamo parlate più diciamo più precise più tecniche più specifiche ma semplicemente più italiane cioè in cui si parla italiano in questo canale si parla italiano ma anche no bene comunque ecco e diciamo il fondo della situazione è che comunque mi frega un cazzo allora andiamo avanti oggi parliamo dicevo di linda landerberg andrò molto veloce in realtà questo video è cominciato a minuto 3 punto qualcosa ma sarà molto veloce in realtà perché il profumo è una di quelle meraviglie immediate cioè è una di quelle meraviglie proprio sa che ti rapiscono immediatamente e io quando l'ho sentito ho sbarrato gli occhi questo marchio è linda landerberg io ve lo voglio mostrare nella sua bellezza e già l'ho fatto in realtà in passato con il profumo a trembling rose do you notice my pronunciation? do you like me? allora siccome che questo profumo è una cosa spettacolare ci metterò a meno di quanto pensiate allora lavender and wool questa è la confezione esterna il profumo arriva praticamente questo qui è un brand o ti non mi ricordo mi sapeva svedese mi sapeva proprio che è svedese adesso c'ho questa cosa sì mi sapeva proprio che è svedese arriva in questo pack meraviglioso ok? questo è il profumo questo qui è lavender and wool e che mi è stato mandato per la recensione e io in realtà ho acquistato il a trembling rose che è il mio profumo alla rosa preferito di sempre quindi questo è il pack ci tenevo insomma a farvelo rivedere perché secondo me è quanto di più grazioso e tenero ci sia al mondo cioè è una cosa veramente fantastica il motivo sul profumo è una boccetta questa non lo so è un profumo della nonna questo degli anni venti è una cosa meravigliosa meravigliosa ok? però a parte questo che è un mero collezionismo visivo in realtà non c'entra niente con la fragranza io vi parlo anche della fragranza siccome che queste quattro fragranze a parte una gelsomino che non mi è piaciuta non mi ha emozionato non mi ha dato assolutamente nulla queste altre tre sono secondo me perle perle però io ve le propongo poi ci sta a chi può piacere a chi sì, a chi no per esempio a Federica non è molto piaciuto a trembling rose in realtà è una rosa fruttata meravigliosa cioè io la amo amo follemente comunque andiamo al peach and suede allora ragazzi il peach and suede io adesso ve lo dico cioè è un profumo che in realtà il nome è pesca e pelle scamosciata ok? peach and suede di che cosa sa questo profumo? io è inutile che vi sto lì a dire le note questo profumo è una pesca e io dico pesca perché nel mio dialetto si dice pesca in realtà si direbbe pesca la pesca è quella che se ti tirano fuori gli merluzzi invece questo è proprio una pesca però io dirò pesca questo è un frutto mamma ragazzi ma una cosa ma una cosa ma come ha fatto a creare questo? non è possibile io rimango sconvolto ogni volta che sento sto profumo perché? perché è riuscita questa ragazza linda è riuscita attraverso ma voi non potete capire cioè è riuscita attraverso le note che è mi sembra che sia un po' sì c'è comunque della pesca c'è del sandalo mi sembra c'è questa pelle scamosciata ma comunque in generale è riuscita a dare un'impressione di pesca così reale così vera così naturale voi non potete neanche immaginare quanto sia fantastico questo profumo io non sono mai così sono difficilmente sensazionalistico con i profumi perché diciamo a volte mi rendo conto che quello che propongo è abbastanza particolare spesso e volentieri in questo caso voi l'avrete magnata una pesca a vita vostra cioè no? e ve posso dire questa è la cosa più naturale che esista questo è il profumo più naturale che io abbia mai sentito nella mia vita questa è una cosa che a me mi fa ride perché non ho mai amato i fruttati questo è un fruttato che io voglio bere io lo voglio bere questo profumo è una cosa stupenda cioè è una pesca e di quelle vellutate col diciamo col vestito di velluto intorno ecco questo è la sensazione prendete quella quella pesca bella matura così grossa però così grossa come una pesca così grossa e tagliate questa pesca a temperatura ambiente perché è fresca ma non freschissima la tagliate a temperatura ambiente ma questa pesca bella matura cioè bella succosa voi la tagliate col cortello che si dice cortello dalle parti mie voi la tagliate e scappa fuori tutto sto liquido raga scappa fuori proprio avete presente quando la pesca si lascia sul coltello tutto quella tutto il succo che è anche fastidioso in realtà perché è appiccicosissimo e poi bagna tutto però questa è quella pesca che voi tagliate e se bagna pure il ciborio e sentite quella grume allo stesso tempo quel dolciume e questo è quando masticate pure la buccia della pesca è una cosa è una cosa questo è un capolavoro secondo me questo è un capolavoro vero e ci tengo molto perché ripeto è una linea che secondo me va sentita potete ordinare il discovery set mi sembra una quindicina 20 euro sono 4 fragranze è vero non costano poco no mi sa che costano nemmeno 13-11 euro mi sembra style mo se lo ritrovo ve lo metto giù in info box tutto quanto ve metto potete ordinare il discovery set se vi piace profumo la rosa se vi piace la rosa provate il discovery set questo qui è una lavanda con il cioccolato e latte freddo una cosa stupenda il gessomino non mi ha emozionato non mi ha detto niente il peach and sweet quello la pesca è un capolavoro dei gourmet perché non è un gourmand cioè non c'è una cosa dolce è semplicemente un profumo che sa di frutto ma è un frutto ma avete presente quello vero ecco questo è il profumo più realistico del mondo lo adoro ok ragazzi io ho finito per quanto riguarda persistenza durata non ho avuto ovviamente modo di provarlo sui vestiti l'ho provato sulla pelle mi sembra che abbia una durata comunque dalle 5 ore più o meno 5-6 ore ovviamente spruzzato sui vestiti immagino ma comunque so certo che abbia una persistenza comunque una performance sicuramente migliore ok più spiccata questo per tutti i profumi vale cioè è comunque uno dei parfum 50 ml 90 euro spedizione esclusa cioè spedizione inclusa scusate quindi dovete ordinarlo alla cieca perché vi piace la pesca volete un profumo alla pesca andate su Linda Landerberg 90 euro e ve lo spedisce nel senza far pagare la spedizione è tutto compreso ok quindi io niente ci vediamo al prossimo video e ciao grazie a tutti